Era un garage molto sospetto, era sotto osservazione da tempo e nascondeva al suo interno 193 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish. Quell'intuore immobile aveva insospettito gli agenti del nucleo di polizia economico-finanziaria e scattato il blitz, quello che hanno rinvenuto è stato uno dei più rilevanti quantitativi di droga detenuta illegalmente nell'interland del capologo Etneo. Sequestrati a Grevina di Catania 183 kg di marijuana, 10 kg di cocaina, 610 g di hashish e 38 proiettili calibro 9x21. Occultata in alcuni scatoloni in uno zenetto, la droga avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio oltre 3 milioni di euro. Arrestato un pregiudicato catanese, del quale non sono state fornite le generalità, accusato di illecita detenzione di stupefacenti e munizioni. Sequestrati anche due bilancini di precisione e il materiale impiegato per il confezionamento della droga. Grazie a tutti.